Sono Lorenzo Perego, nipote di Giuseppe Perego, che nel 1949 ha fondato la PEC Perego. Da più di 60 anni l'azienda produce prodotti per la prima infanzia e giocattoli. È un grande orgoglio per noi avere la produzione in Italia in due stabilimenti produttivi. Uno ad Arcole, dove ci sono anche gli uffici centrali, e l'altro dove ci troviamo oggi a San Donato di Piave, in provincia di Venezia, famosa in tutto il mondo per il suo carnevale e i suoi canali. A San Donato di Piave produciamo passegine e carrozzine per l'infanzia, che in tutto il mondo poi vengono destinate a quelle famiglie che hanno scelto la qualità e la sicurezza dei prodotti PEC Perego. In San Donato di Piave ci sono due reparti produttivi. Il primo è l'officina, dove vengono effettuate tutte le lavorazioni meccaniche su tubi in alluminio e in ferro, per esempio curve, calandre, fori, asole. Sono Francesco, lavoro alla PEC Perego da 16 anni. Sono responsabile delle curva tubi qui in PEG. In particolare questa curva tubi fa lavorazioni che richiedono molta, molta precisione. In questo momento stiamo lavorando in un nuovo prodotto che ci sta dando buoni risultati, il BUC. Nei continui controlli di qualità che vengono effettuati qui in PEG Perego, noi continuiamo a dire ultimamente che in PEG non si fanno più passeggini, si fanno orologi. È una macchina che comunque mi ha dato parecchie soddisfazioni, continuo a darmele. Il secondo reparto è quello del montaggio. L'apporto umano è fondamentale in questo reparto perché in maniera tempestiva possono risolvere tutte quelle problematiche o imprevisti che nell'arco della giornata si possono verificare. Mi chiamo Maria, lavoro alla PEG da 24 anni. Sono molto orgogliosa di far parte di questa azienda. Sono al reparto del montaggio. Sono sulla linea del BUC. Io sono lì al collaudo. Essendo anche mamma, gli presto tanta attenzione. Prima provo lo snodo delle pirrollettanti. Controllo i tubi che siano tutti a posto. Le ruote che girano. Dopo lo giro, lo guardo in sedile, guardo le plastiche che siano a posto. Adesso il BUC l'ho visto nascere, quindi sono sempre stata là. Lavorare mi è servito, ecco. Ti gratifica in tutte le cose, insomma. Più di 700 persone lavorano all'interno delle due unità produttive contribuendo giornalmente e con grande spirito di partecipazione al miglioramento continuo dei nostri prodotti. Sono Roberto, lavoro in Perego da 18 anni e mi occupo di qualità. Noi ci assicuriamo che il prodotto sia compatibile con i criteri di soddisfazione e anche di qualità che l'azienda si prefigge. L'azienda strategicamente ha scelto di avere i fornitori vicini perché garantisce una certa tempestività nel risolvere qualsiasi tipologia di problematica. Alla mattina e il pomeriggio preleviamo un collo, lo apriamo, lo montiamo, facciamo una verifica estetica del prodotto e anche una verifica funzionale. Uno dei nostri collaboratori fa percorrere il passeggino 300 km circa all'interno e all'esterno dell'azienda. Al termine di questi 300 km viene fatta una valutazione strutturale del passeggino verificando che tipo di anomalie possono essersi verificate. Al termine di questo collaudo interno la vita del passeggino continua, viene affidato ad una mamma che continua l'utilizzo del passeggino nel tempo relazionandoci tutte le sue impressioni e tutti i suggerimenti per migliorare il prodotto. Qualità, sicurezza, innovazione, tecnologia e persone. Questo è il Made in Italy di Pekperi. Grazie.